E' passato alla storia come il miglior fotoreporter di guerra al mondo, la definizione gliela affibbiò la rivista inglese Picture Post nel 1938 e per molti aspetti è valida ancora oggi. Robert Capa, nato a Budapest nel 1913 e morto in Indocina nel 54, ad appena 40 anni, fu però anche un grande ritrattista. Seppe cogliere non solo il dramma dei conflitti ma anche le gioie della pace, come testimoniano gli scatti di personaggi famosi da Picasso a Hemingway, passando per Matisse e Ingrid Berman. La complessità del suo percorso umano e artistico è raccontata dalla retrospettiva Robert Capa in calendario dal 15 marzo al 14 luglio a Palazzo Reale. 97 immagini in bianco e nero, divise in 11 sezioni, che scandiscono le tappe della sua carriera. Una parte non indifferente, dedicata inevitabilmente all'esperienza bellica. Nella sua breve e folgorante vita professionale, Capa riuscì a documentare ben 5 guerre senza retorica, arrivando fin dentro il cuore delle battaglie. Iniziò con la guerra civile spagnola nel 1936, di cui divenne simbolo la celeberrima foto del soldato repubblicano colpito a morte da un proiettile dei franchisti, autentica o meno che sia, per proseguire con la resistenza cinese di fronte all'invasione del Giappone nel 1938, la seconda guerra mondiale con le immagini dello sbarco in Normandia e ancora il primo conflitto arabo-israeliano del 1948 e quello francese in Indocina, durante il quale morì ucciso da una mina anti-uomo. Organizzata dalla casa editrice d'arte Silvana Editoriale, in collaborazione con Magnum, l'agenzia fotografica di cui fu uno dei soci fondatori, la mostra, visitabile dal martedì alla domenica, dalle 9.30 alle 18, rende omaggio al maestro della fotografia nel centenario dalla sua nascita. Grazie a tutti.